Io mi sono messo a dieta, non ce la facevo più, ormai i miei sindami erano almeno tali che non potevo fare più o meno di... Mi sono sentito male, per farvi capire mi sentivo come un cellulare in galleria, con la linea tutta disturbata. Poi l'altro giorno ho visto Giuliano Ferrari uscire da un bar, lui mi guardava, io lo guardavo, ma un certo punto mi ha fatto cazzo, vedi il mio passato, infatti la faccio e do cazzo, e questo è il mio futuro. E poi ho avuto anche problemi sessuali, sì. Ho fatto amore con mia moglie, ho fatto la posizione numero 118, quella del Kama Sutra, quella che io sto sopra, no? E lei è sotto col cellulare che chiama l'ambulanza. Poi qualche volta ho fatto anche un po' di sesso con il cibo, quello che bisogna cospargere il corpo della donna di mangiare. Solo che dopo un quarto d'ora invece l'orgasmo, ho fatto un rutto. Però mia moglie me l'ha detto, tesoro, sul mio ventre vanno bene le frago, ho un polpettone, un po' troppo pesante. Ma tu che mi guardi da lì dentro? Che c'hai da guardare? Ma io non sono bello, no? Ma forse ti piace la mia maglietta, eh? 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 T'ho capito. Questa maglietta io la metto solo in luoghi chiusi, lo sai? Perché mi dà problemi. La settimana scorsa mi sono sdraiato a piazza municipale a prendere un po' di sole. Mi è atterrato in elicottero in coppa di panze. Mario Tarallo, Napoli. Grazie. 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 Grazie.